alè siamo fuori stanchi tritati siamo a pezzi ma non vogliamo stiamo andando a milano allontanarsi dalla linea gialla il treno in arrivo a milano centrale è in arrivo al binario 1 allontanarsi dalla linea gialla fuori stanchi tritati siamo a pezzi ma non vogliamo stiamo andando a milano allontanarsi dalla linea gialla il treno in arrivo a milano centrale è in arrivo al binario 1 allontanarsi dalla linea gialla allontanarsi